Buonasera, benvenuti alla nuova puntata di Narrative, oggi abbiamo un ospite straordinario per quanto mi riguarda, Giorgio Bianchi, credo sia nato come fotoreporter, è un documentarista è un giornalista, perché poi alla fine questo è il mestiere che fa e che ha sempre fatto molto bene, ha raccontato tante cose in giro per il mondo, tra cui due conflitti in qualche modo diversi tra loro che hanno avuto però un protagonista in comune, ovvero il conflitto siriano e quello ucraino. Allora, prima di iniziare con l'intervista vi volevo ricordare che noi speriamo, ci auguriamo che il nostro lavoro vi appassioni e le persone che intervistiamo siano quelle giuste e quindi se è così, per favore dateci una mano, appariranno durante questa intervista dei numeri di IBAN dove inviavi dei soldi, aiutateci perché siamo una realtà indipendente, è l'unico modo per andare avanti. Allora Giorgio, intanto grazie per il lavoro che hai fatto, insomma, hai seguito nei video che facevi da quando stavi in Donbass, perché io credo che in una informazione monocolore a prescindere c'è bisogno di qualcuno che crei una sorta di arcobaleno perché non va bene, veramente sono rimasto terrificato dalla nostra, dall'informazione italiana da quando è scoppiata la guerra, non solo, in particolare da quando è scoppiata la guerra. Però vorrei incominciare un po' da lontano, la tua hai incominciato a raccontare l'Ucraina dalle prime manifestazioni di Maidan, nel 2013 addirittura, quando è che sei arrivato per la prima volta a Kiev? Sono arrivato proprio a cavallo tra il 2013 e il 2014, proprio quando tutto è cominciato, intanto grazie dell'invito, è veramente un piacere essere qui, veramente grazie. Sì, è stata una storia che in qualche modo ho seguito veramente fin dall'inizio e della quale conosco molti dettagli, molte dinamiche. Come ti è venuto in mente nel 2013 di andare a Kiev? Ma il discorso è complicato perché a me è interessato fin dall'inizio questo discorso delle primavere arabe, delle rivoluzioni colorate, l'avevo seguito, l'avevo studiato fin dagli inizi, io definirei quasi anche una rivoluzione colorata, mani pulite per intenderci. Quindi per me è un discorso molto complesso e che non è mai stato indagato abbastanza a fondo, anche Tiananmen, anche Vilnius, Lituania, insomma ci sono delle linee guida che in qualche modo accomunano tutti questi episodi e che vanno tutti ricondotti a Gene Sharp e al suo lavoro. A molti questo nome non dice nulla, io invito sempre le persone ad andarsi a rivedere chi a Gene Sharp, qual è stata la sua opera e che contributo ha dato a tutto ciò. E poi anche ciò che è successo a Belgrado, perché anche lì nasce Canvas, che è praticamente una sorta di archetipo e oltre anche esempio di scuola e che ha fatto scuola in tutto il mondo per quanto riguarda le rivoluzioni colorate. E chiaramente quando ho visto quello che stava accadendo a Kiev, secondo me rientrava perfettamente in questa casistica. E per una volta ho deciso di andarci a mettere le mani, andare a vedere proprio da di dentro cosa stesse accadendo, perché vista da di fuori queste cose, per quanto tu possa avere delle nozioni teoriche, per quanto tu possa aver studiato i casi precedenti, però poi trovarci sì dentro è tutta un'altra esperienza. E questo sostanzialmente ho fatto quando... E cosa hai trovato? Ho trovato... La prima cosa che ti fa impressione è che quando tu segui questi eventi dalla televisione, il frame, questo famoso frame, questa cornice, ti dà l'impressione che vuole appunto, che si vuole appunto venga data al pubblico, di questa città messa a ferrofuoco, di questo paese che si rivolta, che è in fermento, questa rivoluzione che si sta consumando e di questo fumo, queste volute di fumo che si innalzano al cielo, questa gente, questo popolo che si scontra contro le forze dell'ordine. E chiaramente tutto ciò ti dà un'impressione. Poi atterri all'aeroporto e vedi che la città è normale, che la gente va a lavorare, che i bambini vanno a scuola e che sostanzialmente non c'è nulla di tutto ciò che tu hai visto in televisione, almeno all'apparenza appena arrivi all'aeroporto. Arrivi al tuo albergo in centro e anche lì vedi che non c'è nulla e ti domandi, ma sono finito del posto giusto o sono finito del posto sbagliato, la metropolitana, i bambini con i genitori, la gente in giacca e cravatta. C'è la vita che scorre normalmente, c'è una rivoluzione, uno si aspetta di trovare, che ne so, le strade deserte, la città militarizzata. Poi effettivamente vai verso il centro, vai verso i palazzi del potere, effettivamente cominci a vedere la polizia, le barricate, ma tutto diciamo che si concentra in una zona molto ristretta, un po' come se da noi la vita a Roma fosse normale ovunque, poi a Montecitorio nelle vie immediatamente adiacenti vi fossero dei cordoni di polizia, dei posti di blocco, dei manifestanti, poi c'era questa piazza attrezzata per il ristoro dei manifestanti, quindi c'era gente che distribuiva il cibo, c'era questo palco allestito dove si alternavano a ciclo continuo degli oratori che arringavano la folla, insomma tutte cose, se vogliamo, chiaramente importanti, ma tutto estremamente ristretto ad un'area ben delimitata, insomma. Chi erano i manifestanti che stavano lì? Nel senso la piazza era partita in un certo modo e finita in un altro modo, allora io non so a che punto si è arrivato di questa trasformazione, ma immagino tu abbia interagito con queste persone, abbia cercato di capire chi c'era in piazza. Evidentemente c'erano due tipi ben distinti di persone, due tipologie ben distinte di persone. C'erano chiaramente i manifestanti pacifici, le persone comuni, anche chi aveva allestito i banchetti, erano le facce giuste, no? Cioè il mio nome in nessuno, quel film Ontario in Sida diceva assicurati che dietro il Green Bureau ci sia sempre la faccia giusta, no? E c'erano delle facce giuste, facce di persone assolutamente comuni, del popolo, di varia estrazione, quindi c'erano i più popolari, c'erano i più istruiti, c'erano gli studenti, c'erano uomini, donne, anche bambini che giravano con i genitori, quindi sicuramente era un ambiente assolutamente eterogeneo e che rispecchiava più o meno la stratificazione sociale del paese, insomma, quindi questo fuori della capitale soprattutto. E poi c'erano questi soggetti un po' particolari che erano queste persone che erano, diciamo, abbigliate, attrezzate, con gli elmi, con le maschere antigas, con le mimetiche, con le protezioni alle ginocchia, i gomiti, con gli scudi che avevano preso anche la polizia, con spranghe, catene che preparavano bottiglie Molotov. Insomma, noi dobbiamo immaginare, adesso che ne so, io faccio sempre questo esempio, immaginiamoci adesso che ci sono state a Roma un anno di manifestazioni contro il governo Draghi. Immaginatevi se sarebbe possibile, anche solo ipotizzabile, che intorno a Montecitorio tu vedi gente con delle protezioni, con delle maschere che prepara Molotov, che crea delle barricate, gente magari con precedenti penali, gente che viene dal tifo violento. Forza Nuova, per esempio, ma anche oltre Forza Nuova. Forza Nuova già è una realtà tra virgolette più istituzionalizzata, tra virgolette, bisogna sempre specificare tutto. Cioè lì siamo veramente molto oltre, parliamo di gruppi paramilitari di estrema destra, facendo di capo a Pravi Sector, Svoboda, molta di questa gente poi è confluita nei battaglioni nazionalisti, quindi in Azov, Aidar e quant'altro. Quindi gente poco raccomandabile. Tu ci hai parlato? Io sono stato in mezzo a loro, avevo un ragazzo che mi faceva da interprete, che tra l'altro poi ho scoperto essere uno studente 19 anni, che ho scoperto essere successivamente organico a Pravi Sector e che poi si è arruolato in Azov, con il quale sono rimasto in contatto a lungo tempo e io lo definirei a tutti gli effetti comunque un bravo ragazzo, cioè un ragazzo che aveva delle idee, ma che poi determinati... Quale? No, no, diciamo, aveva delle idee nazionaliste molto forti e molto decise, ma quanto ne potrebbe avere un ragazzo di 19 anni, universitario, che cresce in un determinato brodo di cultura, no? Perché poi questo paese, non è che tutto nasce nel 2014, cioè questa propaganda nazionalista affonda le sue radici molto tempo prima, potremmo anche dire ai tempi dell'Unione Sovietica, cioè è rimasto sempre forte, soprattutto nell'Ucraina occidentale, quindi ci sono dei ragazzi soprattutto molto giovani, no? Che ci sono cresciuti dentro questa propaganda. Io non penso che le persone siano antropologicamente sbagliate, io penso che tu sei figlio dei tuoi tempi, dell'ambiente che frequenti e soprattutto un ragazzo molto giovane può subire pesantemente questo tipo di influenza, perché poi parliamo di propaganda molto accattivanti, no? Con delle simbologie forti e per un ragazzo che ci cresce dentro e che ha come unico punto di riferimento questo, la russofobia, e insomma io non lo condivido ma lo ritengo comprensibile, cioè noi non dobbiamo giudicare tutto, in determinati eventi dobbiamo anche avere il coraggio di metterci nei panni dell'altro e capire come possono influire nella psiche delle persone e questo è un tipo di propaganda molto forte e se ci cresci dentro il tuo mondo, la tua immagine di mondo è quella, cioè la Russia è il nemico, la Russia è l'impero del male, i russofoni dovrebbero stare fuori dal paese o comunque essere sottomessi o comunque non avere gli stessi diritti di cittadinanza. Insomma, io mi ricordo che quando ci fu il referendum, cioè la chiusura dei confini della Crimea, io a questo ragazzo mi disse che quel bastardo di Putin ha chiuso la Crimea e adesso vedrai che tenteranno di ammetterla, io gli dissi vabbè ma che cosa ti saresti aspettato? Cioè io lo davo per scontato che quella era una reazione naturale da parte della Russia e solo per aver detto questo lui mi portò nella sede di Pravi Sector e gli scoprì che lui era organico a Pravi Sector, mi tolsero il passaporto queste persone come se avessero delle autorità di polizia, io poi chiaramente non ho posto nessuna resistenza, innanzitutto per la curiosità di vedere, io non avevo nulla da nascondere, quindi ero molto tranquillo, in genere in queste situazioni rimango sempre molto tranquillo, ma la curiosità di capire fino a che punto si spingano rimane, no? Comunque sei un occidentale, difficilmente ti toccano, difficilmente hai problemi, quindi io molto tranquillamente gli ho lasciato prendere il mio passaporto, se lo sono tenuti per un paio d'ore, in questo che era una sorta di quartier generale di questa gente qui, poi me l'hanno restituito e sono uscito fuori da quel momento, i rapporti con questo ragazzo sono molto raffreddati chiaramente perché non mi sono più fidato di lui, tant'è che lui ci rimase pure male, poi abbiamo avuto anche una discussione civile, in tal senso io lo giudico, lo ricordo sempre con piacere, perché era un ragazzo secondo me molto intelligente, molto capace e quindi abbiamo avuto una discussione, poi ci siamo cariti, tant'è che ancora oggi lui mi manda gli auguri di Pasqua, di Natale e quant'altro, però lì ho capito determinate cose, insomma ho cominciato a capire determinate cose che questa gente aveva e avrebbe avuto un ruolo successivamente, sono stati i primi a partire, andare giù verso il sud e quindi a fare un lavoro di intimidazione nei confronti delle popolazioni russofone, insomma è cominciato tutto lì ed è cominciato con questa gente qui sostanzialmente che ha guidato il colpo di stato e questo è innegabile, perché noi l'abbiamo visto in Bielorussia quando c'è stata la rivoluzione delle ciabatte, nasce tutto come nasce Maidan, anche lì, la rivolta contro la corruzione, il dittatore Lukashenko e quant'altro, però lì è mancato l'elemento determinante che è stata appunto gente che fosse in grado di scontrarsi con la polizia, perché quando a Minsk questi ragazzetti della borghesia con le loro ciabattine si sono trovati davanti le forze antisommossa non se la sono sentita di scontrarsi, mentre a Kiev c'era gente che era in grado di farlo e di fatto insomma l'ha fatto appunto, no? Poi c'è stata la sparatoria sotto l'hotel Ucraina, questo episodio l'ho raccontato di assolta, io ero là sotto proprio proprio su... Mentre sparavano? Sì sì sì, io stavo proprio sotto l'hotel Ucraina all'angolo praticamente e... Scusa, spieghiamo perché sennò molte persone non sa di cosa stai parlando credo fosse il 22, 23 febbraio... Il 20 febbraio... 20 febbraio... 20 febbraio del 2014 improvvisamente dalle finestre di un edificio che era un hotel che dominava la piazza e non solo da lì anche dal conservatorio e da altri posti in cui incominciano i cecchini, in cui incominciano a far fuoco sia sui poliziotti che sui manifestanti e una mattanza, io sono credo oltre 140 morti e centinaia di feriti e questo episodio viene attribuito al presidente e quindi diciamo direttamente anche a Putin, essendo consigliato lui una meravigliata di Putin e quindi giustifica tutto quello che è accaduto dopo, cioè il colpo di Stato, questa è diciamo la sintesi, quindi tu stavi lì e... Io possiamo anche fare un passettino prima, nel senso io arrivo la mattina prestissimo alla piazza, io pensavo la mattina molto presto e arrivavo la mattina molto presto e in lontananza sente il rumore degli spari, quindi cosa che non avevo mai sentito fino a quel momento, quindi in lontananza si sentiva distintamente il rumore delle raffiche e degli spari, ho cominciato a correre, sono arrivato lì e lì ho trovato il panico, ho trovato il panico perché c'era questa sparatoria in atto e la cosa terrificante è che non si capiva il punto in cui arrivavano gli spari, perché tu sapevi che la polizia era davanti a te, tu però non sentivi gli spari in lontananza, gli spari li sentivi molto più vicini e quindi ho cominciato a correre, ho cercato di raggiungere la via principale dove praticamente avveniva, c'era una barricata giù in fondo, sono arrivato in fondo proprio alla primissima linea dei manifestanti e lì in quel momento c'è stata una scena terrificante perché praticamente c'era un manifestante sdraiato per terra di fianco a me che ho fotografato che aveva un binocolo e parlava con una persona che stava dietro di me e io non vedevo e faceva, dava delle indicazioni a questa persona, poi a un certo punto ho sentito due spari fortissimi sopra la mia testa, praticamente alzo la testa e vedo che questo qui aveva una carabina e stava sparando contro la polizia da terra e è successo questa cosa, poi un secondo dopo è stato freddato da un colpo che gli è arrivato in testa e si è accasciato praticamente sopra di me, a quel punto io sono scappato via, sono indietreggiato perché noi eravamo praticamente dietro due bagni chimici che sono di plastica, quindi non offrono riparo dal fuoco delle armi e a quel punto sono arretrato fino all'angolo dell'hotel Ucraina in un punto dove io pensavo di essere più al sicuro ed ero lì sotto con un ragazzetto che è quello poi che ho fotografato nella foto famosa con gli occhi verdi e a un certo punto da sopra la nostra testa sentiamo il rumore di spari e a quel punto c'è quel ragazzo che fa questo gesto così si gira per guardare dietro perché noi abbiamo sentito distintamente che anche in quel caso gli spari venivano da sopra la nostra testa, intanto è che il ragazzo ha uno sguardo terrorizzato perché ovviamente tu a quel punto non capisci più nulla, poi ovviamente Gianmica Lessin successivamente fece lo scoop, trovò questi due cecchini georgiani che erano stati addestrati in un campo della CIA che avevano ricevuto 5 mila dollari, cioè gli erano stati promessi perché poi a quanto pare questi soldi non li hanno ricevuti, eccetera, ed è una dinamica che io paragono veramente in tutto per tutto simile a quella che si è verificata a Vilnius in Lituania sotto la torre della televisione, anche lì ci fu una sparatoria, ci furono mi sembra 14 morti e poi Butkevicius che poi successivamente divenne ministro della difesa o degli interni adesso non ricordo bene, rilascia un'intervista in cui disse che era stato tutto preordinato che a sparare sui manifestanti erano stati manifestanti stessi perché gli serviva un casus belli per creare una, dice dovevamo battere emotivamente i russi in questo caso e poi questo effettivamente è successo e lui non si sentiva in colpa sostanzialmente perché il fine giustificava i mezzi e io penso che in Ucraina sia successa assolutamente la stessa cosa perché a quel punto Viglianukovic non aveva più interesse a fare una mattanza anche perché già aveva deciso insomma di concedere quello che i manifestanti concedeva, l'aveva detto il giorno prima sostanzialmente, quindi non ha senso che tu il giorno dopo cominci a sparare contro la folla contro i manifestanti quando non l'hai fatto per tutto per mesi poi sostanzialmente e poi ci sono state le dichiarazioni di Paet che era il ministro degli esteri Estone, sicuramente non un filo Putin, un filo russo che è stato intercettato e che ha detto che lui aveva le prove che a sparare sui manifestanti fossero stati appunto i manifestanti stessi perché le pallottole che avevano colpito la polizia i manifestanti avevano una rigatura compatibile con la stessa arma e quindi secondo me quello che è successo... ma poi per carità io sono abbastanza avvezzo a queste cose che io penso anche che il fine giustifichi i mezzi nel senso se tu hai un obiettivo da raggiungere e tu lo fai... sono obiettivi non normali, sono obiettivi di un gioco colossale, no? un gioco colossale che è quello dell'assetto statuale di un paese, della collocazione di quel paese all'interno di un blocco piuttosto di un altro, 100 morti sono un'inezia, allora io spero che si capisca il senso di quello che dico, no? cioè per determinati livelli sono... quindi io lo comprendo... abbiamo avuto le stragi, il terrorismo... io penso che a determinati livelli le persone siano un po' come i batteri, no? non contano come i batteri in una provetta, quindi non c'è questa remora che noi avremmo, no? nei confronti di un altro esso umano, a determinati livelli... però basta che le cose siano chiare, no? nel senso spieghiamo alle persone le cose come stanno, l'abbiamo fatto perché riteniamo giusto farlo non cerchiamo di mascherare le cose ammantandole di altro o peggio ancora attribuendo le colpe che sono le nostre ad altri assumetevi la responsabilità fino in fondo di quello che avete fatto avete organizzato un colpo di Stato perché il governo Yanukovic non era gradito all'Occidente definito filo russo, non è mai stato filo russo Yanukovic, anzi Mosca ha avuto parecchi problemi con Yanukovic Yanukovic aveva soltanto ricevuto da Mosca un'offerta più vantaggiosa erano 15 miliardi contro circa 700 milioni di euro senza poi quelle condizionali che metteva l'Europa quindi lui ha accettato semplicemente un'offerta più vantaggiosa questo all'Occidente non è andato bene e a quel punto si è deciso che doveva essere rimosso e che l'Ucraina doveva seguire un altro corso che non era quello di paese neutrale che fa da cuscinetto tra due mondi io capisco che il ruolo di cuscinetto, anche la definizione sola di cuscinetto non è piacevole quando ti viene posto, soprattutto per chi ha un forte sentimento nazionalista ma di fatto questo sei, sei un paese che sta a metà tra due blocchi, tra due mondi e quindi o cerchi di barcaminarti, che era un po' quello che faceva Yanukovic sostanzialmente, o prendere una posizione così netta nei confronti dell'altro blocco comporta inevitabilmente delle frizioni, degli attriti che poi possono avere delle conseguenze io ricordo sempre a Maidan una signora, proprio una signora di quelle che distribuiva il cibo in piazza che mi disse, proprio in un lampo di lucidità, era una persona molto lucida a prescindere ma lì è stata ancora più lucida, mi disse non so se noi stiamo cadendo dalla padella da braccio, ora io la dico all'italiana lei ha usato un'altra espressione, però il senso era questo aveva l'impressione che in quel momento si stava facendo un passo forse un po' troppo lungo e poi si è visto, perché la stessa Victoria Nuland quando è stata intercettata con il suo addetto d'ambasciata vice ministro degli esteri degli Stati Uniti sì, era vice segretario di Stato, appunto ministro degli esteri degli Stati Uniti il presidente è intercettata con il suo addetto di ambasciata il presidente stava lì e collocava le pedine questo lo mettiamo qui, questo non va bene ma l'Europa forse avrà qualcosa da dire, l'Europa si fotta questa frase famosa che ancora oggi sostanzialmente l'Europa si fotta anzi la stanno proprio fottendo loro, perdonatemi il termine, ma proprio bellamente passiamo da Metan tu da lì sei tornato in Italia o resti in Ucraina? no, no, io sono tornato in Italia e sono ritornato lì praticamente un anno dopo perché inizialmente quindi non hai seguito l'inizio della guerra civile? no, non ho seguito appunto la discesa dei nazionalisti non ho seguito la mattanza di Odessa io ovviamente non c'ero ho raccolto diverse testimonianze nel tempo di questi episodi la sparatoria a Krasnart Minsk quando si sparò contro la gente che andava a votare per il referendum e anche lì arrivò un pulmino con gente armata il pulmino molto probabilmente fu organizzato da Kolomoisky questi oligarchi, questi nomi che ritorna Kolomoisky, Akhmietov l'uomo che ha messo Zelensky al suo posto sì, sì, ma no, no, io aggiungo per gli spettatori sì, perché da noi viene detto che l'Ucraina adesso è diventato un paese improvvisamente democratico un paese che sta in fondo a tutte le classifiche addirittura il Fondo Monetario Internazionale rifiutò di mandare dei finanziamenti proprio per il livello di corruzione anche Yanukovic stesso era un oligarca cioè non è una persona del popolo insomma, è un paese che è da sempre insomma in mano a questi uomini che praticamente andarono lì perché quando crollò l'Unione Sovietica tutte queste aziende di Stato le azioni furono distribuite tra gli operai e poi comparvero misteriosamente questi uomini con queste valigie di soldi cominciarono a razzolare queste azioni che all'epoca avevano anche un valore ma furono prese per un valore simbolico gente che aveva fame quello che gli davano se lo prendeva perché non è che dovevano fare speculazione quelli avevano il problema di mettere insieme il pranzo con la cena e quindi questi soggetti sono arrivati lì e hanno razzolato queste proprietà di Stato e hanno messo insieme fortune successivamente e sono di fatto diventati i proprietari del paese sono diventati i proprietari del paese pensa solo a Khmedov che tra l'altro ha delle relazioni importantissime con l'aristocrazia industriale italiana con i Danieli, con i Marcegaglia insomma con i Riva dell'acciaio e ci sono delle relazioni importantissime che andrebbero indagate, che andrebbero approfondite Khmedov possedeva tutta la filiera della produzione dell'acciaio aveva le miniere di carbone dove viene estratto il carbone aveva le cocherie dove questo carbone viene trasformato in combustibile per le acciaierie e aveva le acciaierie e queste acciaierie producevano quote molto importanti di acciaio a livello mondiale prima quando c'era l'Unione Sovietica era un qualcosa che era destinato al mercato interno sostanzialmente con il crollo dell'Unione Sovietica è diventato un ruolo importante nell'esportazione dell'acciaio a livello mondiale insomma da noi è diventato sempre più difficile per le norme ambientali per tante cose lì è prima del 4 West insomma, arrivi in Donbass e via Russia ovviamente no, io la prima volta che arrivo in Donbass vi arrivo regolarmente accreditato il ministero ucraino con la testa lato quindi stai al lato diciamo ucraino non vedi l'altro lato? no, no, io arrivo proprio a Kiev atterro di nuovo a Borispil vado al ministero ritiro questa carta per la quale avevo fatto delle pratiche in anticipo dall'Italia mi danno questa carta arrivo sulla linea del fronte tento di lavorare c'erano 2000 restrizioni e questo non lo vuoi fare e questo non lo vuoi fare e lì non ci vuoi andare e di qua e di là a quel punto mi sono stufato ho detto va bene provo ad andare dall'altro lato mi hanno detto tutti no, guarda è inutile non tentare con la macchina c'è mille problemi ti fermano alla frontiera potrebbero non farti passare allora a quel punto prendo un mezzo pubblico queste marche route che sono questi pulmini collettivi e attraverso il confine con il pulmino arrivo a Donetsk e da lì comincio a lavorare attraverso il confine ho i timbri dei checkpoint ucraini quindi praticamente pure dal punto di vista proprio burocratico ero a posto arrivo a Donetsk questa città spettrale deserta dove non c'era nessuno dove tutto il giorno sentivi costantemente questo rumore dei bombardamenti che sembrava sempre un terreno da parte di chi? da parte degli ucraini ovviamente che bombardavano la città poco tempo prima erano arrivati con gli elicotteri da guerra con gli aerei avevano bombardato l'aeroporto di Sergei Prokofiev di Donetsk che avevano bombardato il palazzo d'amministrazione c'erano altri giornalisti occidentali con te? io ero da solo però c'erano molti giornalisti occidentali in quel momento e queste cose non ti stupisce che non abbiano raccontato queste cose? ma le cose in fin dei conti sono state anche raccontate perché proprio l'altro giorno stavo sentendo la corrispondenza perché io poi col senno di poi mi piace rileggere determinate cose che sono successe in quegli anni ho trovato cioè in realtà mi hanno mandato e me la sono riascoltato questa corrispondenza che è stato giornalista inglese del Sunday Times che era stato embedded con le milizie popolari e che gela questo studio ucraino dove lui era stato chiamato a fare un resoconto dicendo che guardate qui i russi non ci stanno queste sono gente che non ha nessuna formazione militare che fino all'altro ieri lavorava in miniera lavorava in fabbrica faceva il commesso eccetera che hanno preso le armi e questi rimangono tutti di sale c'erano all'epoca già delle testimonianze chiare sui crimini dei battaglioni nazionalisti Bravi Sector Azov insomma appena si è formato Aydar Dniepro I Dniepro II erano chiarissime le connessioni con gli oligarchi che erano una sorta di signori feudali che si erano fatti il loro esercito privato perché chiaramente loro non volevano la guerra civile volevano la soppressione immediata degli autonomisti in modo tale che soppressione non intendo fisica ma proprio di questo impulso a una sorta di contro-rivoluzione perché chiaramente tu vedi che ti arriva un governo vedi che questo governo ha sovvertito un governo democraticamente eletto vedi che praticamente c'è un intento a diciamo a contenere e in qualche modo a ridurre la presenza pubblica diciamo dei russofoni vedi poi i fatti di Odessa dove c'è stato un vero e proprio pogrom ai danni dei russofoni ti spaventi e comunque cominci a mobilitarti poi spontaneamente ci sono queste contro-manifestazioni molto simili a Maidan però dal lato opposto ci sono questi referendum per l'autodeterminazione sulla scia di quello che era stato fatto in Crimea e allora chiaramente questi oligarchi si sono messi in moto hanno costituito queste milizie le hanno armate e le hanno mandate lì in qualche modo a intimidire la popolazione civile per farla rientrare insomma nell'alveo di quello che era stato deciso e che doveva essere il destino prossimo del paese e quindi poi si sono macchiati di crimini di guerra che sono stati ben documentati anche dall'OSCE tutto questo è tutta una storia nota c'è stato il famoso articolo della stampa sul battaglio di Nazioffa in cui viene però nota insomma in Italia la maggior parte della popolazione non sapeva nemmeno che esistesse il Donbass dipende nota dipende nota per chi come non è che si è fatta una campagna c'è una guerra in Europa vi raccontiamo una guerra in Europa ogni tanto c'è qualche articolo qualche cosa così ma diciamo che questo rientra un po' in una tendenza degli italiani noi siamo molto attenti attenti per modo di dire alle questioni interne ma gli esteri in Italia non sono mai stati curati più di tanto generalmente il pubblico italiano è molto ignorante rispetto alla politica estera la narrazione degli esteri è stata sempre molto sciatta molto raffazzonata molto filonata perché io vengo anche dal conflitto in Siria noi possiamo che era iniziato prima di Maidan era iniziato quattro anni prima 2010 2011 a marzo quindi abbiamo diciamo già quattro anni quasi tre anni di narrazione sulla Siria completamente a senso unico senza nessun minimo minimo di indagine abbiamo visto anche la Libia come è stata raccontata in generale tutte le primarie arabe quindi diciamo non deve stupire questa discrepanza ma il pubblico italiano mediamente è profondamente ignorante non gli interessa nella guerra a loro interessa sapere più o meno chi sono i buoni chi sono i cattivi noi abbiamo avuto la guerra in Iraq che è stata raccontata senza far vedere un morto senza far vedere un ferito sostanzialmente oggi stanno lì con la mente di ingrandimento ci stanno questi morti dieci morti che vengono ripetute cento volte e diventano mille perché ogni volta vengono ritirati fuori si sta lì si sta con la telecamera sul cadavere decomposto che per anni adesso ti dicono noi non possiamo tacere i crimini prima invece non era giusto farli vedere per non urtare la suscettibilità del pubblico perché i morti li facevamo noi oggi che presumibilmente i morti li fanno gli altri si sta lì con la lente di ingrandimento e all'ora di pranzo all'ora di cena ti vedi queste famiglie disperate tutto quello che ci hanno sottaciuto Mosul è stata distrutta nel 2003 è stata distrutta nel 2017 Raqqa è stata completamente rasa al suolo ma noi abbiamo visto sempre queste macerie da lontano col drone con le riprese a volo d'uccello nessuno è mai andato da vicino a vedere cosa c'era tra quelle macerie chi era rimasto sotto quelle macerie chi aveva fatto quelle macerie e perché aveva fatto quelle macerie tutte queste domande non ce le siamo mai poste oggi c'è questo cambio della narrazione è diventato tutto molto importante e quindi un pubblico completamente digiuno di faccende geopolitiche completamente digiuno di guerra noi sappiamo Julian Assange ha denunciato i crimini di Abu Ghraib oggi rischia 175 anni di carcere uno può dire va bene era una spia ma tutti i giornali del mondo hanno pubblicato i suoi scoop l'hanno ripresi ci hanno riempito le pagine oggi all'improvviso diventa una spia perché queste domande non se le sono poste prima quando lui denunciò Abu Ghraib i crimini di guerra degli americani degli statunitensi in Iraq tutti hanno preso per buono le dichiarazioni di Assange oggi all'improvviso diventa una spia non è più credibile chi gli passava le informazioni oggi ci si pongono mille domande e tutti quei giornalisti che per anni hanno riempito i loro giornali con i suoi scoop con le sue informazioni oggi perché non lo difendono? in qualche modo dovrebbero difendere anche il loro lavoro perché loro le hanno utilizzate quelle informazioni quelle rivelazioni insomma io ricordo anche il caso dell'Afghanistan un corpo di elite di militari statunitensi ha giocato al videogame con i civili li hanno liberati in un'area devastata e poi giocavano agli sparatutto quelli che ci giochi diciamo da casa realmente e per capire chi aveva ucciso più persone si tagliava il dito delle persone e questa notizia non è uscita sui siti complottisti cioè il Guardian ha fatto uno scoop su questa cosa io invito le persone ad andarsi a ricercare queste informazioni eppure oggi abbiamo questa realtà completamente distorta in cui i russi sono diventati all'improvviso degli orchi dei violentatori dei massacratori deportano i civili no? cioè tutta una serie di cose e qualsiasi cosa adesso addirittura l'altro giorno mi hanno detto che distribuivano gli aiuti umanitari con le cariche esplosive dentro il latte questa no mi sentite questa testa manca il messaggero cioè il messaggero lo stesso che ha fatto riportato la foto del razzo nel lavandino no? non so se te la ricordi adesso se ne uscì tra l'altro poi con questo cibo che ha le scritte in ucraino sopra no? i russi tutta roba prodotta in russa figuriamoci e fanno vedere con questo cartone del latte con questo cavo collegato a un ordigno esplosivo come se i russi adesso al discorso al di là del fatto della notizia che non ha senso che è illogica che è ridicola ma tu è ridicola però quando tu vieni bombardato in continenza di queste notizie l'abbiamo visto recentemente col covid insomma alla fine passa qualsiasi cosa sì ma guarda io ti dico che a me l'aspetto più terrificante che veramente mi fa mal sperare per il futuro è questo che noi eravamo ti faccio un esempio proprio concreto noi eravamo lì c'era un giornalista tra l'altro importante non rivelerò il nome col quale stavo lavorando di un di una testata del servizio pubblico quindi al di sopra di ogni sospetto a un certo punto stavamo lì noi ogni giorno leggevamo le notizie a un certo punto lui mi dice guarda l'ANSA ha detto che Basurin è stato rapito dall'FSB è stato portato a Mosca perché al telefono Basurin è il vice comandante delle milizie popolari e l'FSB sono i servizi segreti russi sono i servizi civili perché poi tra l'altro quelli militari sarebbe il GRU quindi già lì una cosa mi suona male perché un militare lo arresta il GRU non arresta l'FSB già questa è una notizia strana insomma poi gli dico ma guarda io l'ho visto stamattina l'ho incontrato l'ho pure salutato Basurin lo conosco da otto anni è sempre lui se lo vedo per strada ci salutiamo lui conosce me io conosco lui gli faccio dico guarda io l'ho salutato stamattina perché sembra strano che l'abbiano rapito e portato a Mosca l'FSB poi al limite è il GRU che lo porta via non lo porta via dall'FSB e insomma io ho il numero di telefono lo chiamo lo faccio chiamare dall'interprete e questo è stato rapito dice ma di la verità ho fatto il briefing in diretta poco fa dico la vedo un po' difficile ho detto fatti vado se ci vediamo cinque minuti per parlare questa cosa dopo sette minuti ci siamo visti e ovviamente non era stato rapito dall'FSB stava lì ci siamo fatti una risata sopra io dico ma scusate ma perché non le smentite queste notizie perché non c'è una smentita ufficiale e lui mi dice ma secondo te se noi le smentissimo qualcuno sarebbe lì a sentire la nostra smentita e dico ma non vi fa e dice oramai noi non ci facciamo neanche più caso c'è questa famosa propaganda russa questi sono arrivati al punto che è un po' come Lavrov quando venne intervistato su Assad e gli dice guardi tanto qualsiasi cosa io le dica lei scriverà comunque quello che pensa lei e non quello che io le dico quindi scriva quello che vuole non so se ti ricordi fu una famosa Lavrov un uomo di spirito e quello gli ha fatto la domanda dice tanto io che ti devo dire tanto qualsiasi cosa io ti dico tu scriverai quello che pensi tu e quello che vuoi quindi scrivi direttamente quello che pensi senza che io ti risponda e loro stanno messi così dice io che devo smentire devo dire che non sono è anche umiliante da un certo punto di vista perché il problema di fondo lanza regge una notizia su un giornale ucraino non è che alzano il telefono e chiamano le autorità della Repubblica Popolare escono le autorità russe e chiedono conferma ma no loro prendono e riportano una notizia ad un giornale ucraino senza domande senza niente e quindi pubblicano la questione del latte con l'esplosivo dentro e gli stupidi di massa e le impiccagioni e Mariana la ragazza simbolo dell'ospedale di Mariupolo che è stata rapita dai russi perché io mi ritrovo su... racconti questa cosa qui dall'inizio è una cosa meravigliosa allora diciamo che a me di quell'ospedale di Mariupolo c'erano tante cose che non mi tornavano tutta una serie di cose perché per quel livello di devastazione i morti sarebbero dovuti essere molto di più questi reporter dell'Associo Depresse che dopo sette minuti stanno là dentro quindi per motivi... adesso la butto lì stavano si trovano nelle vicinanze sì sì ma tutto possibile io ti dico da come nasce la mia perplessità allora tu stai sul campo vedi una cosa che non ti torna per determinati aspetti dici andiamoci a mettere le mani dentro poi non hai un'idea cioè non è che vuoi necessariamente piegare la realtà a quella che è la tua interpretazione vai a vedere quello che succede è un fatto importante eclatante ho visto l'intervista di questa ragazza in cui dice non ho sentito il rumore degli aerei no andiamo a vedere se è vero l'intervista l'hanno fatta altri e la faccio io perché i russi puoi mettere in dubbio che l'intervista l'hanno fatta i russi vediamo cosa dice a me punto primo punto secondo poi la maggiore curiosità ti viene quando viene detto che è stata rapita dai russi no è stata rapita o non è stata rapita e insomma comincia a sguinzagliare io lì lavoro ad otto anni conosco tantissime persone e allora ho detto a tutte le persone di scriverle sui social perché lei è una blogger quindi molto attiva sui social diti che c'è un corrispondente italiano che vorrebbe intervistarla e mi arriva dopo un po' una risposta e mi dicono sì guarda lei è disponibile l'unica condizione che vuole è che l'intervista non sia tagliata cioè lei vuole che il suo pensiero sia riportato per filo e per segnalo era l'unica condizione che mi vuole io dico ma sei stata rapita no sono tornata a casa mia io come sei tornata a casa sei di Mariupol no io sono di Makievka Makievka è un piccolo sobborgo diciamo un po' come Roma e Tivoli una cittadina attaccata a Donetsk ah quindi tu sei a casa quindi quelli che dicono che sei stata rapita dico io non sono stata rapita da nessuno dico dopo l'ultima intervista che ho ho rilasciato sono stata minacciata di morte da chi? dagli ucraini da cittadini da perché chiaramente lei aveva detto alcune cose che non primo tra tutti che appunto non aveva sentito questo rumore di aerei no dice io vivo in un paese in guerra da anni eravamo qui a Mariupol e noi lo sappiamo quando gli aerei passano sopra la nostra aeree io in quell'occasione non ho sentito rumore di aerei poi si può indagare può essere stato un colpo di artiglieria qualsiasi cosa ma se viene detto che la ragazza dice che non ha sentito il rumore degli aerei ed è un testimone ed era diventata la donna cioè noi non dobbiamo prendere atto di questa cosa no? se no la testimonianza non vale più nulla a suo dire anche le altre persone che erano con lei non avevano sentito il rumore degli aerei è un aereo che bombarda è un aereo che non vola altissima quota quindi comunque lo senti il rumore dell'aereo tu comunque di questa cosa ne devi prendere atto ma dal mio punto di vista al di là di questa cosa che è difficilmente dimostrabile a me quello che interessava era il fatto che fosse stata rapita o non rapita dai russi perché tutti i giornali del mondo danno una notizia prendendo per buono quello che dice la propaganda ucraina perché da noi i giornali russi li hanno chiusi le testate russe non possono in tutta Europa come se noi siamo dei bambini scemi poi chi è che leggeva le testate russe in Italia quante saranno l'1% il 2% della popolazione comunque tu li blocchi quindi rimane solo la propaganda ucraina i giornali e le testate europee riprendono pedisseguamente quello che viene detto la propaganda ucraina viene detto che lei è stata rapita io riscontro che non è stata rapita almeno così pare e dico mi lascia un'intervista mi lascia l'intervista nasce l'intervista e l'intervista dice tante cose interessanti primo fra tutte che non è stata rapita secondariamente appunto che non ha sentito il rumore di ieri ma la terza cosa che è veramente rilevante è stato il fatto che lei e questa è una cosa che hanno tentato in tutti i modi di omettere di queste interviste e che non l'ha riportato nessuno è che lei con l'Ucraina un po' di dente avvelenato ce l'aveva cioè lei non era lei è l'esempio di quello che è una guerra civile perché noi ci raccontano di un'Ucraina in cui tutti sono a favore di Zelensky tutti sono a favore dell'Europa e della Nato ma lì c'è un'amplissima fetta della popolazione che non ne vuole sapere nulla di entrare nell'Europa che non vuole sapere nulla di entrare nella Nato che non è fido occidentale anzi con l'Occidente ha un motivo di rammarico perché magari tu hai vissuto a Makievka tutta la tua giovinezza e ti hanno bombardato gli ucraini tu hai visto gente ammazzata lei a un certo punto ti dico qual è la fotografia più terribile lì si è commossa si è messa a piangere è lì che secondo me era il vero elemento fondamentale di quella testimonianza ed è per questo motivo secondo me che quella testimonianza è stata screditata in tutti i modi perché al di là del fatto del bombardamento che è del tutto relativo al di là del fatto del rapimento che secondo me invece è molto rilevante ed è lì che tutti hanno fatto giri di parole per sorvolare su quello che è un punto determinante che appunto la ragazza non è stata rapida ma il punto determinante è che quella ragazza ha subito i bombardamenti degli ucraini e se prima era un testimone attendibile quando stava in ospedale e viene bombardata perché non è un testimone attendibile quando ti racconta otto anni di guerra civile in cui lei è stata bombardata addirittura quando è stata intervistata da Mario Giordano a Fuori dal Corono a un certo punto Mario Giordano taglia la comunicazione chiude però rimane io ho registrato la chiamata via Skype e continuano a registrare continuano a parlare e io sento distintamente la voce di Mario Giordano che dice certo che questa ragazza non è che ha detto cose sorprendenti cioè se fosse pagata dai russi avrebbe potuto andarci giù molto più pesante invece la sua testimonianza mi sembra molto equilibrata dice questa dovrebbe essere la prova che la ragazza non è pagata dai russi cioè tu ti rendi conto che c'è tutta una costruzione intorno ma a tutti i livelli su tutto cioè mistificare cioè questa intervista questo scoop l'apparato propagandistico gli ha fatto veramente male perché poi hanno cercato in tutti i modi di mistificare tutti gli aspetti di questa intervista al di là di lei della sua storia tu sei stata a Mariupol e non lo so immagino tu avrai cercato di indagare sui due episodi che in qualche modo hanno fatto molto la differenza in questa guerra l'ospedale e il teatro allora effettivamente ti sei dato una spiegazione di come sono andate le due cose e cosa è successo nei due casi allora io sono stato anche al teatro l'ho visto è completamente distrutto bruciato poi i morti ci sono stati perché prima hanno detto che c'erano stati i morti poi hanno detto che non era morto praticamente nessuno poi invece ho scoperto che i morti ci sono stati stando lì si parla di 150 morti insomma i morti ci sono stati io abbiamo parlato con un testimone lui dice determinate cose io non credo a tutto quello che lui dice perché lui dice che secondo lui l'ospedale sta dominando scusate il teatro è sta dominato sto parlando del teatro del drama lui dice che è sta dominato io non lo ritengo molto credibile ma non ritengo neanche così rilevante soffermarsi su questi aspetti cioè l'aspetto determinante è che è che i russi oggettivamente hanno cercato di limitare i danni poi ci troviamo di fronte a una guerra a un conflitto di questo livello i morti civili è inevitabile che ci sia la distruzione è inevitabile che ci sia soprattutto se da parte di chi si deve difendere tu ti asserragli all'interno di una città ti metti a sparare dai condomini no? è inevitabile che quegli altri ti rispondano no? tu puoi dire che è legittimo nascondersi nei condomini perché tu stai difendendo la città a parte a parte che mi risulta che sia vietato dalla convenzione di Ginevra utilizzare i civili come scudi umani e questo è un punto sei forte sei coraggioso vai in campo aperto combatti e vedi chi c'ha la meglio oppure sfogli i civili dalla città e ti difendi nella città come hanno fatto a Stalingrado no? contro von Paulus in campo aperto non c'è nulla da fare perché è superiore sia come mezzi come tecnologie come tutto ti difendi nella città la trasformi in un cumulo di macerie dove ogni angolo diventa un pericolo per le truppe che invadono no? tu puoi fare questo ragionamento anche a Mario ma dovresti fare fuoriuscire i civili e a tutte le testimonianze che io ho raccolto indistintamente anche con il giornalista del servizio pubblico che conferma quello che anch'io avevo visto e che ha visto anche lui con i suoi occhi risulta che di fatto è stato impossibilitato o comunque scoraggiato il deflusso dei civili dai luoghi degli scontri gli veniva detto che dal lato russo era troppo pericoloso e che quindi le strade erano minate che non potevano uscire eccetera eccetera ma gli è stato anche impedito di defluire dal lato ucraino gli era stato detto la città è completamente protetta non c'è nessun rischio avrete l'acqua avrete il cibo e rimanete non li hanno minacciati no minacciati non risulta non mi risulta che siano stati minacciati risulta il fatto che sono stati scoraggiati a lasciare la città di fatto io so da testimonianze che qui dico ma da prendere con il beneficio del dubbio perché sono testimonianze che io non ho avuto modo di verificare di seconda battuta no? perché a Kramatorsk io non ci sono stato però persone mi hanno detto che da Kramatorsk esce solo chi può pagare verso l'Ucraina quindi si può mettere a sicuro solo chi paga 300 dollari ok io questa cosa non la posso verificare quindi non l'ho scritta da nessuna parte lo dico qui a titolo di possibilità no? cioè io la ritengo una cosa possibile perché anche quello che noi vediamo è che gli ucraini che stanno arrivando in Europa come profughi sono mediamente benestanti fanno mediamente parte del ceto alto no? io ho avuto amici un po' in tutta Europa che mi scrivono con i quali sono in contatto per esempio dalla Svizzera tre persone diverse mi hanno detto che arrivano queste famiglie con i macchinoni gente molto molto benestante e quindi l'impressione è che abbiano consentito di defluire dalle città chi stava molto bene chi tendenzialmente era pro occidente e hanno lasciato nelle città i cedi più bassi e possibilmente quelli che potevano essere più simpatizzanti con la Russia questa è la mia impressione e queste persone diciamo potenziali simpatizzanti con la Russia sarà capitato di incontrarle insomma una volta che hanno subito i bombardamenti hanno continuato a simpatizzare con la Russia oppure hanno detto no vabbè ci hanno bombardato i russi ci hanno invaso e allora io comunque il mio orgoglio ucraino di cittadino ucraino supera la mia simpatia verso i russi e quindi no no io quello che ho riscontrato è una totale simpatia una totale adesione alla causa tuttora assolutamente sì addirittura e questo nella massa della popolazione o io non ti saprei dire però io ho intervistato una quantità significativa di persone ora io non sono uno statistico e sono anche consapevole che ne so 40 interviste non fanno un caso rilevante ma se tu intervisti 40 persone prese random in varie situazioni quindi su un autobus mentre vanno via con una macchina mentre vanno via a piedi mentre vanno via al sicuro e cioè addirittura io due persone le ho fatte uscire fuori io proprio da Mariupol perché mi hanno chiesto di interessarmi per loro mi sono interessato una di queste persone si chiamava Nina che è questa che aveva dei parenti in Svizzera adesso probabilmente è già arrivata in Svizzera in questo momento io sono andato lì a casa sua e tutti hanno sparato a zero contro il governo ucraino addirittura accusandolo di accusandolo di di averli usati come scudi umani e addirittura parlando io questa cosa l'ho tagliata dalle mie interviste che spesso era a Zoff a sparare contro i condomini per spaventare la popolazione per creare la distruzione questa cosa a me risulta poco credibile io non l'ho mai diciamo fatta passare però quando arriva pure quest'altro giornalista che lavora per il servizio pubblico e riscontra queste cose qui e dice ma io queste cose qui le devo dire perché anch'io le ho riscontrate e allora però torno a dire questo aspetto non è comunque rilevante non serve dirlo perché non aggiunge non toglie nulla quello che secondo me è veramente determinante è che tutti sono concordi nel dire di essere stati utilizzati come scudi umani che è scritto anche su Washington Post e addirittura la persona che ospitava questa Nina che era una fervente nazionalista ucraina e che se vai sulla sua pagina Facebook per anni ha sparato a zero contro la Russia dopo l'assedio di Mariupol lei spara a zero contro il governo ucraino ha cambiato idea ed era una nazionalista questa persona nazionalista non la dobbiamo intendere fanatica però era una persona che era convintamente pro-ucraina dopo aver vissuto l'assedio e lei stessa aver visto questi qui che venivano con i carri armati che si piazzavano nei condomini che dicevano ragazzi è pericoloso se voi state qui ci mettete a rischio noi qua ci abitiamo cioè se voi sparate da qui e poi quelli rispondono e poi molti dicono che sono stati proprio loro con i carri a sparare contro i palazzi cioè questa cosa non si può ignorare questa cosa io pure oramai sono giunto alla conclusione che questa testimonianza è talmente diffusa che non è ignorabile ciò nonostante io mi attengo al livello basico della questione qui non voglio arrivare al massimo il livello basico è che i civili sono stati trattenuti in qualche modo i civili sono stati mandati nelle cantine e i loro appartamenti sono stati utilizzati come punti di fuoco i civili non appena sono arrivati i russi gli è stata data la possibilità di andare via chi vuole andare via va via chi vuole rimanere rimane e quelli che rimangono vengono distribuiti aiuti umanitari e c'è un buon rapporto con le forze russe che noi potremmo definire di occupazione e finisco la domanda che mi pongo è perché in altri posti viene detto che i russi sono dei massacratori degli stupratori eccetera quando lì a Mariupol dove si è consumata una tragedia grossa dove loro dovrebbero aver fatto molto peggio rispetto ad altre parti non c'è questo rapporto conflittuale con la popolazione cioè dove i russi controllano oggi i russi controllano tutta Mariupol tranne l'Hazzovstal dove all'interno sono ancora asserraiati i nazionalisti ma perché lì le testimonianze sono discrepanti rispetto dove è misurabile dall'altra parte non è misurabile viene detta una cosa lì è misurabile perché tu la puoi vedere questo rapporto e questo rapporto è buono cioè qui c'è una discrepanza grossa tra quello che viene raccontato e tra quello che viene visto cioè io ho visto consegnare le pizze di Pasqua alla popolazione ho visto della gente correre fuori e andare cioè una signora mi ha spaccato il cuore ha abbracciato sto pane lo guardava annusava questa pizza di Pasqua e sorrideva sembrava la donna più felice del mondo e noi dobbiamo immaginare che i russi in altri posti gli hanno sparato a questa gente che poi sono donne vecchi e bambini perché gli uomini abili alle armi non ve ne sono cioè io devo ipotizzare che a Mariupol fanno propaganda gli distribuiscono da mangiare e da altre parti massacrano i civili li stuprano impiccano le donne agli alberi distribuiscono cartoni di latte con l'esplosivo dentro e questa cosa chiunque va a Mariupol la può constatare a Volnovaca già la vita sta riprendendo sostanzialmente stanno cercando di sistemare c'è una giornalista olandese che ha fatto una corrispondenza ha detto qui sono venuto una settimana tanti anni fa c'erano i maceri e adesso già hanno pulito sempre a proposito i civili che vengono in qualche modo intrappolati nell'acciaieria di Mariupol ci sono non si sa bene quanti decine centinaia civili li hanno pure mostrati con delle immagini sono lì volontariamente c'è gente che sta lì volontariamente perché gli hanno detto vieni qui e ti proteggi ti proteggiamo noi sono gente che è stata costretta a entrare lì sono persone che invece sono in qualche modo collusi perché magari sono i parenti dei combattenti chi sono si è fatta un'idea? allora questa è stata un'altra cosa come quella che dicevo prima di Mariana tu senti una notizia sei sul posto e cerchi di verificarla quindi chiaramente la prima cosa ho fatto da tuo stesso ragionamento ti fa strano che dei civili possano essere in un luogo come l'acciaieria anche perché se una contezza di come sono queste fabbriche sono un po' militarizzate anche in epoca di pace non è che entri esci da un'acciaieria anche perché è un luogo molto pericoloso c'è dell'acciaio liquido che schizza da tutte le parti è un luogo tra i più infernali io l'ho vista una recentemente di Akhmedov affascinante sotto certi aspetti terrificante è l'ultimo posto dove tu vorresti stare insomma però uno deve pensare che quell'acciaieria è costruita secondo criteri sovietici quei luoghi erano diciamo predisposti per essere luogo di accoglienza dei civili in caso di attacco nucleare quindi ecco la presenza di sotterranei sotterranei attrezzati per poter accogliere persone difficoltà ad espugnare un posto del genere perché è un posto che dovrebbe resistere a un inverno atomico sostanzialmente quindi diciamo ci sono delle strutture per accogliere i civili il fatto che ci siano dei civili io mi ha suonato strano pure a me tant'è che quando sono andato a visitare questa acciaieria nazionalizzata ex di Akhmedov c'erano degli operai specializzati che venivano da Mariupol ovvero c'erano degli operai che lavoravano in Azovstal sono stati sfollati e chiaramente sono stati rimpiegati in questa acciaieria perché avendo un'elevata diciamo conoscenza del lavoro servono sono molto utili e abbiamo ho parlato con quattro di loro e ho chiesto ho fatto proprio una domanda specifica secondo voi ci possono essere dei civili là dentro? un po' perché magari ci sono le famiglie delle persone che lavorano un po' perché magari da fuori sono potute entrare e loro mi hanno detto è possibile questa cosa non sarebbe una cosa strana se ci fossero i civili poi ho parlato anche con delle autorità della DNR un'autorità molto in alto insomma una di quelle persone che fa da ponte tra la DNR e la Russia quindi una persona molto informata dei fatti il quale mi ha confermato per certo che ci sono i civili mi ha detto ci sono non mi ha spiegato la natura se sono parenti dei miliziani se sono gente che mi hanno mai però mi ha detto che sono in numero molto inferiore rispetto a quelli che sono stati denunciati insomma detti dai mezzi di informazione per quanto riguarda i video che sono usciti secondo me lasciano il tempo che trovano io le fonti amatoriali tendo a non considerarli mi hanno detto anche che è possibile far uscire del materiale da lì ad esempio utilizzando Starlink di Musk per esempio questo internet satellitare quindi perché a me sono stata strano anche che fosse stato possibile far uscire le foto perché a proprio dei video io ho visto uno di questi video in cui c'erano appunto questi civili che venivano intervistati e mi ha molto sorpreso perché loro dicevano fate venire l'OSCE proteggeteci fateci uscire non vogliamo la guerra vogliamo la pace discorsi non erano discorsi bellicosi la gente aveva paura e poi aveva scappare e a intervistarli perché poi si vede loro che parlano e basta e poi improvvisamente si sente una voce che fa le domande mentre loro parlano tutti in russo nessuno di loro parla in ucraino parlano tutti quanti in russo l'intervistatore parla in russo con un accento ucraino spaventoso quindi chiaramente era non so come dire forse era un miliziano non ne ho la più pala idea e quindi mi sono chiesto ma perché cioè la loro intervista non dava esattamente il senso di persone che erano lì pronte a morire o chissà che cosa era il senso di persone che dice guarda quello che sta accadendo è terrificante meglio che ci portate via allora io una delle ultime cose che ho fatto prima di andare via da lì è stato tornare a Mariupol sono tornato a Mariupol e io sono arrivato a 500 metri dalla Zopstal proprio a ridosso e ho parlato con i militari col comandante che gestisce e la prima cosa che gli ho detto ho detto ma se quei civili volessero uscire fuori potrebbero uscire quando vogliono il corridoio è pronto non è una cosa detta così giusto perché eri giornalista no 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 a loro hanno tutto l'interesse a farli uscire cioè secondo te i russi vogliono ammazzare altri civili che stanno su tutti i giornali al mondo se c'è modo di farli uscire secondo te li farebbero uscire o li tengono là dentro perché pure qui no quello che praticamente è stato soppresso nel dibattito pubblico è la logica cioè la logica non è un qualcosa di astratto cioè la logica ha un valore ed è quello dal quale noi dobbiamo partire perché anche quando tu fai le domande e fai il tuo lavoro quello che ti deve guidare è la logica cioè se uno ti dice che ci sono dei civili chiusi là dentro no e quella zona è completamente sigillata e chi sta sigillando quella zona ha tutto l'interesse a entrare là dentro e fare piazza pulita di chi sta là dentro chi ha questo intento e questa volontà ha interesse o non ha interesse a far uscire i civili allora perché quel video cioè perché da dentro quello è un video prodotto dall'interno non dall'esterno questo tu lo puoi fare quando hai in mano l'intero apparato propagandistico mondiale perché qualsiasi cosa viene detta viene fatta leggere nel modo esatto in cui tu vuoi che venga fatta leggere non ci sarà mai nessuno che porrà la domanda ma scusate A. come è uscito fuori quel video B. quindi c'è la possibilità di contattare quelle persone che stanno là dentro perché se fanno uscire il video sono contattabili C. perché non fate uscire quella gente se i russi non gli sparano mettiamo le telecamere di tutto il mondo riazziamo lì su questo corridoio mettiamoci un satellite no facciamo questa prova vediamo se i russi massacreranno questi civili che fuoriescono vediamolo vediamolo chi spara se qualcuno sparerà cioè ma è logico che uno che ha tutto l'interesse a prendere un'area si tenga i civili là dentro e gli impedisca di uscire fuori come a Mariupol se i russi avessero potuto far uscire i civili ma ti pare che non li avrebbero fatti uscire con il rischio poi di beccarsi cioè siamo veramente possiamo ipotizzare che sia un popolo di psicopatici un popolo intero dall'oggi al domani cioè va bene Putin è uno psicopatico Shoigu Lavrov ma tutto un popolo è un popolo di psicopatici che vogliono massacrare i civili inutilmente che vogliono attaccare una città sapendo che dentro ci sono i civili se tu hai la possibilità di farli uscire ti pare che non li avrebbero fatti uscire appena possibile torno a dire è la logica quella che oggi sta morendo e il lavoro che non stanno facendo i giornalisti è stato quello di agire secondo logica e di porre le domande giuste ci sono dei civili là dentro Benissimo perché non escono perché i russi non dovrebbero volere che loro escano questa è la domanda che uno si deve fare e io ti dico la prima cosa che mi sono chiesto è possibile che ci siano perché già questa è una cosa strana che ci siano ok ci stanno seconda domanda vado dai militari che stanno all'attorno e gli chiedo ma perché non li fate uscire? come non li facciamo uscire? qui è tutto pronto se li vogliono far uscire li facciano uscire domandati perché loro gli fa comodo che restino lì a fare da scudo che poi pure questo rientra in tutto un discorso più generale che è quindi che diventa un discorso coerente che diventa quindi un discorso logico ed è lì che bisognerebbe lavorare ma se noi i nostri giornali diventano l'ufficio stampa del governo ucraino che il governo ucraino dice una cosa e tutti i giornali del mondo riportano quella cosa lì amen è finita tu hai avuto l'impressione che le forze armate russe siano scalcagnate cioè che i russi abbiano mandato i loro mezzi così di riserva non non si stiano impegnando realmente non vogliono impegnarsi realmente oppure le forze armate russe veramente sono scarse molto più di quello che ci si immagina allora questa è una cosa che ho tentato di dire tante volte non riuscendo in televisione perché viene interrotto in continuazione i russi sono andati in Ucraina sono entrati con una quantità di truppe molto ridotte rispetto all'esercito ucraino il rapporto è più o meno 1 a 3 per ogni soldato russo ne sono 3 ucraini che sono tanti mediamente ben addestrati e anche abbastanza ben armati quindi non sono di leva sono no ci stanno ci sta gente che sta lì allora ci stanno i gruppi nazionalisti che sono un conto poi ci sta gente che è di leva ma combatte da anni oramai soprattutto in Donbass quindi ci sono dei veterani quindi nazionalisti possiamo dire che oramai li hanno integrati e fanno parte a tutti gli effetti dell'esercito ma quella è gente che vive di violenza che vive di guerra che fa solo quello ne ha fatto e fa solo quello nella vita poi ci sono i militari di leva che ci sono quelli che sono stati arrolati adesso con l'ultima mobilitazione e poi c'è sta gente che combatte lì da anni perché la guerra non è scoppiata il 24 febbra ma dura da 8 anni e torno a dire il rapporto è di 1 a 3 anche se adesso si parla anche addirittura con l'ultima mobilitazione generale che arriva fino a 60 anni quindi possono richiamare sotto le armi anche gente parecchina con gli anni si parla addirittura di 500 mila uomini sono tanti diciamo che all'inizio erano circa 360 mila più o meno e i russi erano in un rapporto tipo 120 mila quindi un rapporto di 1 a 3 quindi chiaramente che cosa hanno fatto i russi? i russi per non affrontare tutte le esercesse se tu hai come obiettivo di prendere l'Ucraina orientale quindi la zona del Donbass e quella meridionale quindi tagliare l'accesso al mare e ricongiungerti magari con la Transnistria tu non ti concentri soltanto lì perché se no lì ti ritrovi un esercito notevole da dover combattere e quindi che cosa hanno fatto? hanno anche attaccato la capitale perché chiaramente la capitale la devi difendere quindi hanno distratto verso la capitale un numero enorme grosso di truppe e noi dobbiamo immaginare che l'esercito Ucraina è diviso in un terzo un terzo un terzo un terzo che difende la capitale un terzo in Donbass e un terzo nella parte meridionale e l'esercito russo si sta concentrando su questi tre obiettivi l'obiettivo della capitale già è stato abbandonato per ripiegare sull'obiettivo quello vero che è il Donbass chiudendo quelle truppe che stanno lì in una manovra a tenaglia sostanzialmente e isolandole poi dal resto del paese in quella zona soprattutto nella zona di ADFK è molto problematico perché innanzitutto lì ci sono c'è un'importante presenza di nazionalisti attaccato c'è anche una fabbrica chimica quindi bombardare vorrebbe dire creare un disastro ambientale e in più lì si sono attrezzati con bunker sotterranei molto profondi tant'è che hanno iniziato adesso i russi a utilizzare anche le bombe quelle da tre tonnellate disegnate per penetrare all'interno dei bunker e poi esplodere all'interno dei bunker proprio per espugnare questa parte più fortificata del territorio ucraino e meglio armata i russi hanno sicuramente mandato come mezzi roba vecchia i carri sono carri vecchi non è la roba di ultima generazione proprio per il fatto che questa è una guerra che non deve essere una guerra lampo è una guerra in cui i rischi per la fanteria erano notevoli perché immaginati tu a dover entrare con le colonne dentro una città in cui ci sono questi condomini giganteschi che sono i condomini di epoca sovietica che non sono fatti di cemento armato scadente di cemento armato buono sono come dei bunker sostanzialmente sono difficile distruggere quegli edifici quindi immagina di queste colonne che entrano dentro in cui si comincia a far fuoco da tutte le direzioni i russi hanno perso molte colonne in questo modo hanno perso molti uomini molti fanti in questo modo quindi il discorso è utilizzi non i gioielli di famiglia insomma i gioielli delle ultime tecnologie non utilizzi tutto l'esercito perché non ti fai trovare sbilanciato perché se poi dovesse intervenire improvvisamente la nato che fai ti fai ritrovare cioè l'ucraina è un territorio che è difficile da difendere perché è una spianata praticamente gigantesca dove le distanze sono notevoli se tu ti fai ritrovare all'interno che penetri a fondo in un territorio ucraino poi poter tornare indietro o comunque anche dover diciamo la logistica quindi proprio diventa un problema rifornire di armi di cibo un esercito fortemente sbilanciato se dovesse entrare la nato e anche la nato può entrare da più lati e quindi massacrare l'esercito russo che poi si ritroverebbe senza uomini senza mezzi senza niente quindi la russia si è data oggettivamente un obiettivo limitato che è quello di mettere in sicurezza le repubbliche autoproclamate liberare loro parlano di liberare noi useremmo il termine conquistare diciamo gli oblast quindi le regioni di pertinenza di questi territori chiudere l'accesso al mare dell'Ucraina e congiungersi con la Transnistria che è questo territorio filorusso all'interno della Moldavia che fino ad oggi veniva rifornito soltanto attraverso i ponti aerei ma che in questo modo diventerebbe diciamo sarebbe una continuità territoriale con il resto del paese quindi io penso che la situazione vada poi chiaramente c'è l'utilizzo di armi tecnologici tipo le testate balistiche e poi anche il fatto che fino ad oggi i russi non hanno cercato di colpire le infrastrutture ucraine lo vediamo che lo stanno facendo oggi in cui l'Occidente dice di voler moltiplicare lo sforzo bellico quindi di inviare sempre più armi all'Ucraina e quindi si è iniziato a colpire le vie ferroviarie le arterie stradali è stato colpito un cargo in volo che portava armi all'Ucraina quindi si comincia ma all'inizio non c'è stata questa volontà di colpire anche le infrastrutture civili si è cercato di evitarlo quindi io mi sento di dire che i fatti cioè quello che noi vediamo sul campo è che è vero che la Russia si è data degli obiettivi limitati è vero che non si è impegnata fino in fondo è vero in certa misura che gli uomini russi hanno un parte combattuto con le mani legate dietro la schiena perché la Nato non avrebbe mai gestito un conflitto in questi termini la Nato bombarda a tappeto e poi dopo mandano le truppe di terra a vedere quello che è rimasto in piedi questa cosa da parte russa non c'è stata anche perché poi in quei territori ci sono parecchi russofoni parecchie persone che loro in tutti i modi vogliono salvaguardare che ritengono parte integrante della loro popolazione come ultimo una cosa volevo sapere una cosa perché noi due abbiamo una cosa in comune purtroppo aggiungo io perché i nazisti e il ministro dell'interno ucraino hanno stilato una lista una lista che dovrebbe essere inaccettabile per qualsiasi paese al mondo invece questa lista viene comunicata a tutti i paesi del mondo una lista nera viene comunicata a tutti i paesi del mondo non mi risulta che qualcuno abbia mai protestato per una cosa del genere allora questa lista la caratteristica c'è la foto e ci sono le informazioni personali della persona a te cosa ha comportato far parte di questa lista personalmente se è successo qualche cosa non so se lo puoi dire o cosa temi che possa accadere se tu adesso stai in Italia sei tranquillo sei tranquillo no no la lista il sito si chiama Mirat Vorez ed è un sito pacificatore fa ridere già il nome pacificatore stilata dal governo ucraino in cui ci sono come giustamente ricordato te foto nome cognome indirizzo con anche il capo d'accusa nei due confronti il mio caso è criminale collaborazionista del regime nazista di Mosca nemico del popolo ucraino nemico del popolo sono pure io io non sono criminale collaborazionista però sono nemico del popolo vabbè hai una cosa in più tu capisci tu capisci che è una cosa veramente allucinante una cosa del genere e non c'è stata una protesta neanche formale perché poi dici tu le cose le puoi fare in maniera sostanziale o in maniera formale ma non c'è stata neanche una protesta formale da parte del governo italiano e in generale dell'Unione Europea e dei governi europei nei confronti del governo ucraino per la gestione di questa cosa che è una cosa folle perché questo di fatto è una lista di proscrizione a tutti gli effetti di fatto è un atto di intimidazione no perché poi quelli che poi muoiono di questa lista viene scritto liquidato cioè ci appare adesso è morto Andrea Rocchelli nel 2014 e anche lui c'è scritto liquidato sopra adesso è morto il volontario italiano Eddie Ungaro che lì uno potrebbe dire che è comprensibile che sia su una lista perché tu se dici che quelli sono dei terroristi vedi una persona che combatte con quelle che tu ritieni di essere dei terroristi la cosa in qualche misura è comprensibile anche liquidato ma il fatto che ci siano degli operatori del settore dell'informazione su una lista è che se domani a me succedesse qualcosa sulla mia faccia c'è scritto liquidato no come se io veramente avessi combattuto effettivamente con le armi contro il paese le armi con le quali ho combattuto io sono le armi dell'informazione ma che io faccio da anni non è io sulla lista ci sono da prima nell'inizio dell'operazione speciale e chiunque abbia visto i miei lavori vedete tranquillamente che sono lavori che parlavano della vita civile delle persone io ho anche tentato di andare in Ucraina mi hanno tentato di arrestare l'aeroporto perché a me sarebbe piaciuto raccontare la vita dei civili anche dall'altro lato senza nessun tipo di pregiudizio senza quello che avrei raccolto e riscontrato l'avrei pubblicato allo stesso modo con il quale l'ho fatto dal lato autonomista perché definirmi un criminale per aver fatto cosa questo e questa è una cosa veramente pericolosa veramente pericolosa se poi entra in combinazione con un altro aspetto che sta avvenendo qui da noi che è quello che io ritrovo ancor più preoccupante della lista che è quello di vedere screditato il mio lavoro e la mia persona perché nel momento stesso in cui tu vai in televisione e tenti tenti perché poi non ci riesci più delle volte di spiegare qual è il tuo punto di vista che è un punto di vista documentato che è un punto di vista che va avanti da anni no? su questa situazione che racconta quello che è successo più o meno no? e tu vieni screditato agli occhi del pubblico come un cialtrone un ciarlatano come un pazzo un propagandista e lo dicono i tuoi agente del tuo paese che teoricamente non dovrebbe essere coinvolta con il conflitto che dovrebbe vedere il tuo lavoro con un livello di obiettività molto superiore a quello con il quale lo vedono gli ucraini perché io dal punto di vista dell'Ucraino al di là della lista che è folle ma tu la puoi anche stilare una lista no? cioè quello che io trovo folle è il comportamento dell'Occidente cioè che prenda per buono quello che dicono loro che non protesti ufficialmente nei confronti alla lista di proscrizione e soprattutto che vada a screditare il lavoro di un operatore che è del tuo paese e che teoricamente non ha nulla a che vedere con il conflitto e che il cui punto di vista dovrebbe teoricamente essere oggettivo perché i russi non vanno bene e lo posso capire perché sono russi e sono parte del conflitto gli ucraini non dovrebbero andare bene perché anche loro sono parte del conflitto ma un operatore terzo rispetto a questi due soggetti tu lo dovresti ascoltare ma se tu vai a screditare anche quello che dovrebbe essere terzo e lo vai a screditare senza mai addurre senza mai entrare nel merito delle cose perché io sono stato attaccato ma non c'è mai stata una persona che ha preso una cosa che io ho scritto una foto una didascalia un testo un racconto e ha detto no guarda qui tu hai detto una cosa falsa guarda che questo è un tuo punto di vista non è mai successa una cosa del genere non è mai successa neanche che un organo mi estime mi abbia fatto un'intervista o meglio le D4 l'ha fatta un'intervista di due ore e poi hanno mandato 40 secondi però non c'è mai stata un'intervista anche un confronto con una persona che la pensi diversamente da me ma un confronto documentato sui fatti civile in cui io ho il tempo di esporre le mie tesi e quell'altro ha il tempo di esporre le sue contradduzioni quindi in un clima del genere in cui tu sei su una lista di prescrizione e il tuo paese ti scredita e svilisce quello che tu hai fatto e ti dileggia se un domani un ucraino ubriaco o un non ubriaco per strada mi spacca la testa qualcuno si sentirà autorizzato di dire vabbè ma quello si è cercata ha parlato male del suo paese o come dice il tempo testata nazionale si vede palesemente che Giorgio Bianchi odia l'Ucraina ma sulla base di cosa perché dico quello che penso dico quello che vedo per questo io odio l'Ucraino io forse penso essere uno dei pochi amici che il popolo l'Ucraino ha perché è evidente che se la guerra prosegue morirà più gente il paese sarà ancora più distrutto perché non c'è nessuno sano di mente che possa pensare che l'Ucraino abbia una sola chance di farcela contro la Russia la Russia ha 6.000 testate nucleari ha le testate le mini nukes le testate tattiche ha un'infinità di testate balistiche che può lanciare dal mare da terra al completo controllo dei cieli secondo quale dato e quale possibilità potrebbe veramente noi pensiamo che gli spalleggiabili mandare qualche carro armato può cambiare gli esiti di questa guerra se i russi volessero potrebbero incenerire tranquillamente il paese tanto oramai le sanzioni gliel'hanno messe sono giudicati i criminali da tutti peggio di così cosa può andare cosa gli potranno dire già gli hanno detto che sono dei genocidi allora a questo punto genocidi lo faccio veramente tanto peggio di quello che mi hanno detto quindi questa guerra è una guerra a senso unico non c'è possibilità da parte del governo ucraino di sfangarla o di vincerla o di fare qualsiasi cosa e chi dice questa cosa qui non può essere un nemico del popolo ucraino è solo una persona che analizza i fatti con realismo e dice che questa cosa è insensata e che il popolo ucraino è stato utilizzato dalla Nato come esca come agnello sacrificato per far uscire la Russia lo scoperto attaccare porre fine a una guerra che dura da otto anni e che nessuno voleva risolvere magari prevenire un attacco ucraino contro le popolazioni russofone del Donbass perché anche questo era una cosa che si è molto dibattuta e per i russi vi era una convinzione che si stesse andando in qualcosa del genere e anche qui in quel caso se gli ucraini avessero attaccato in massa del Donbass e i russi avessero difeso comunque i russi sarebbero stati sempre in difetto perché per l'ominione pubblica occidentale gli ucraini erano legittimati a riprendersi un territorio che giudica loro e che dagli occhi del mondo è considerato con mano russa sopra quando poi invece sarebbe stato un massacro e infatti buona parte della popolazione di quelle zone è stata sfollata è andata in Russia poi molti non hanno voluto abbandonare i loro uomini perché oramai vivono in guerra da otto anni e non è che sono spaventati da qualche cosa però ecco il discorso che è inaccettabile è questo clima di intimidazione nei confronti del dissenso non è accettabile la democrazia c'è quando c'è pluralismo di vedute anche perché il dubbio che molti raccontino solo l'altro lato perché vogliono continuare ad essere pubblicati vogliono avere problemi vogliono che è un po' come la pandemia io ho la certezza ho la certezza perché me l'ha detto una persona molto affidabile che per esempio nella redazione di Open in un ruolo molto importante c'è una persona che non è d'accordo con quello che dice Open sulla pandemia che è molto più vicina alle mie posizioni però questa persona non si espone perché ha paura di perdere il posto di lavoro e secondo te è accettabile che ci sia un clima del genere nel mondo dell'informazione che uno lavora in una testata e che non si possa esprimere che debba lavorare in un certo modo per paura di perdere il posto di lavoro questa è democrazia questo è il problema di fondo che noi abbiamo e oggi chi lavora sull'Ucraina ovviamente dà al sistema quello che il sistema si vuol sentir dire perché parlare diversamente vuol dire procurarsi una marea di guai vuol dire rischiare di non essere più pubblicato grazie allora spero che questa intervista avrebbe appassionato esattamente come ha appassionato me e se è così la prossima volta o al termine di questa intervista date una mano ad Oval per fare altre interviste del genere su Narrative grazie mille buonasera grazie Giorgio grazie Franco e arrivederci a tutti grazie a tutti